Con l'avvicinarsi delle festività Napoli e la Campania si preparano a fare i conti con più controlli. Questa mattina il prefetto della città capoluogo Marco Valentini ha presieduto una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica insieme ai procuratori dei tribunali di Napoli e Napoli Nord e di vertici provinciali delle forze dell'ordine. Al centro del confronto la programmazione dei controlli e dei servizi nell'area metropolitana. Si preannunciano giorni blindati per evitare assembramenti o situazioni di rischio. Del resto sono migliaia le persone che rientreranno in Campania. Non solo il fine settimana, già da oggi sono tutti esauriti i biglietti dei treni alta velocità da Milano verso Napoli. I convogli viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme in materia anti-covid. Al momento comunque non si registra caos nelle stazioni. Situazione sotto controllo anche negli aeroporti dove attiva la task force per chi atterra. In queste ore in Campania la situazione contagio è incoraggiante. Nelle ultime ore sono 927 le persone positive con la percentuale tra infetti e tamponi che cala al 6%. Ma resta sempre alto il numero delle vittime. Nel bollettino dell'unità di crisi figurano infatti 48 decessi. Con questi numeri manca solo l'ufficialità per il passaggio della Campania in zona gialla. Il report settimanale dell'istituto superiore di sanità dovrebbe sancire l'ulteriore allentamento delle restrizioni soprattutto per le attività di ristorazione ma non solo. Intanto è in programma nel pomeriggio il vertice telematico organizzato da Vincenzo De Luca con i presidenti di regione del mezzogiorno. Gli otto governatori si ritroveranno intorno al tavolo virtuale convocato dal presidente Campano con l'obiettivo di far fronte comune per i progetti condivisi per l'utilizzo dei miliardi del recovery fund.